Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo qui e vi faccio vedere questo secondo capitolo della saga di Twilight, The Twilight Saga New Moon Come detto, saga che devo rivedere, questo è il laterale di Twilight Saga New Moon, qua c'è il retro, la durata del film è di 126 minuti, contenuti extra, commento del regista con immagini del film Qua i tre protagonisti, andiamo a vedere l'interno, molto bello questo retro sfondo della copertina The Twilight Saga New Moon, che volendo si può anche cambiare, se non vi piace l'immagine principale, si può mettere questo come copertina del DVD E niente, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, come sempre ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti belli